Il plauso arriva anche dal sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo dove afferma come plaudo ai poliziotti della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Canicattì diretti dal dirigente San Martino e militari del comando provinciale della Guardia di Finanza guidati dal colonnello Lopane per la brillante operazione compiuta e incontrata a Ciccobriglio ubicata in territorio compreso Trannaro e Campobello di Licata nell'ambito del contrasto alle corse clandestine di Cavalli. Tale intollerabile fenomeno per Corbo costituisce un grave pericolo per la sicurezza e la salute degli animali ed è connessa ad attività illegali di scommesse organizzate e gestite da individui senza scrupoli. Il sindaco di Canicattì conclude dicendo ringrazio le forze dell'ordine che con la loro opera quotidiana affermano la presenza dello Stato diffondendo la cultura della tutela della salute del benessere degli animali contrastando il loro sfruttamento in attività illecite.